Allora, è stata prima una quasalità perché l'azienda per cui lavoro mi ha dato l'opportunità di trasferirmi per un periodo di qualche mese a Hong Kong e quindi l'ho colta pensando che appunto fosse solo qualche mese, invece sono già sette anni e mezzo. Quindi si parte un po' per curiosità, un po' per il fascino di dover andare in un paese esotico e poi questo fascino molte volte ti prende, le opportunità che sono presenti in questi paesi estri, asiatici, in continua evoluzione poi ti trattengono anche con altri incentivi attrattivi economici ma anche di opportunità per i giovani che spesso in Italia purtroppo non abbiamo e quindi poi uno rimane, soprattutto poi prima della pandemia non era neanche troppo doloroso perché si poteva viaggiare 4-5 volte l'anno adesso è diventato un po' più importante, distacco con l'Italia in quanto negli ultimi anni abbiamo potuto tornare in Italia giusto una volta l'anno nei casi fortunati, io conosco tanta gente che sono anche 2-3 anni che non torna a casa. Ecco, noi lo vediamo anche dalle immagini, ci immaginiamo una città assolutamente moderna, piena di grattacieli, con una vita frenetica, è così? O invece la quotidianità ad Hong Kong è diversa? Hong Kong è una città che considero molto affascinante perché ha un centro finanziario che è quello che fanno vedere le vostre riprese con tutti questi grattacieli, con la borsa, con tutte le aziende e gli uffici che sono tutti in una strada che penso che questa sia una cosa unica al mondo, avere tutti gli uffici delle aziende più importanti a livello multinazionale, asiatico e internazionale tutte nella stessa strada, quindi è facilissimo, è stata creata apposta per facilitare i contatti e i meeting tra le varie organizzazioni e le varie aziende. Però poi Hong Kong è un paese davvero affascinante perché oltre ad avere tutta una storia al suo interno, nei suoi villaggi che sono nella zona soprattutto peninsulare attaccata alla Cina, poi ha tutta una serie di spiagge, di montagne dove si può fare trekking, cioè tolta la zona centrale Hong Kong è affascinante come molte altre isole del sud-est asiatico e quindi ripeto molte persone vengono a Hong Kong, venivano a Hong Kong, facevano il weekend, guardavano sempre la zona centrale ma poi non sapevano e magari se non ci vivi o non conosci qualcuno non lo vieni a sapere che poi sempre nella zona di Hong Kong a distanza di 10 minuti o un quarto d'ora puoi raggiungere posti fantastici sia da un punto di vista culturale che ambientale. Tra l'altro Francesco, lei fa parte dell'associazione proprio dei Liguri che è lì, che è un po' un riferimento da un certo punto di vista non solo per chi arriva lì per business o per lavoro, per consigli ma anche magari per un consiglio giusto per scoprire qualcosa intorno. Assolutamente, noi abbiamo aperto questa branch dell'associazione Liguri presente in Cina a Hong Kong nel 2019 abbiamo fatto alcuni eventi, poi purtroppo prima le proteste poi la pandemia ci hanno un attimino fermato ma lo spirito di riprendere le attività da settembre in avanti continueranno e il nostro obiettivo è proprio quello di essere da un lato un punto di contatto per tutti quei genovesi e liguri che verranno e vorranno venire a Hong Kong sia per piacere ma anche per opportunità di business e essere un pochettino anche un punto di riferimento anche per quelle tematiche magari che possono a volte spaventare o possono incuriosire italiani, liguri che vogliono venire in Asia e magari non hanno tutta una serie di informazioni non saranno dove reperirla e noi vorremmo essere il loro punto di contatto e essere tranquillamente raggiunti faccio anche promozione da questo punto di vista e dico chiunque ha bisogno di Liguri, di un supporto, di un consiglio di sapere come si ci deve muovere a Hong Kong, in Cina e ha bisogno di un nostro supporto benvengaci i contatti, noi siamo contenti di dare questa assistenza. Senta Vitali, sul fronte Covid lì è sempre stata una situazione un pochino più facile rispetto a quello che abbiamo visto, sentito dalla Cina. Sì, ora ovviamente anche qui abbiamo subito delle restrizioni importanti soprattutto nel periodo di febbraio-marzo dove abbiamo avuto un semi-lockdown e c'erano state delle situazioni un po' più difficili che avevano riguardato anche altri espatriati, altre problematiche. Però rispetto a quello che è successo in Cina dove sono stati dei casi più importanti di lockdown totale e situazioni di emergenza anche di fornitura di cibo e acqua, non siamo stati in questa situazione. Abbiamo ancora alcune restrizioni in essere tra cui la quarantena rientro a Hong Kong però in teoria la situazione adesso sta migliorando, le persone sono vaccinate o si stanno vaccinando e si spera che entro fine di quest'anno la situazione migliori del tutto e si possa riavere una vita seminormale anche perché onestamente ne sta risentendo tutta la città. Anche il business ne sta risentendo? Allora il business soprattutto quello diciamo internazionale sì perché Hong Kong si è completamente isolata per quanto riguarda il business, il collegamento soprattutto con la Cina invece bene o male riusciamo comunque ad avere delle buone opportunità però in realtà devo dire che alla fine magari sono diminuite le opportunità di meeting, di incontri che c'erano prima su Hong Kong però comunque le attività sono comunque continuate. Chi ha imprese in Cina in un modo o nell'altro comunque ha continuato il suo business ovviamente sono diminuite tutte quelle opportunità che Hong Kong offriva come fare mostre, esibition, fiere internazionali, opportunità appunto di fare incontri con soggetti in loco qui a Hong Kong queste sono diminuite, anzi in alcuni casi sono congelate del tutto però ecco ripeto speriamo, si prospetta che nel prossimo futuro possano riprendere. Lei fa parte anche della Camera di Commercio ma è anche ambasciatore della Sampdoria e presidente della squadra di calcio Sampdoria Hong Kong che è stata neopromossa quindi congratulazioni, ci racconta un po' la storia di questa squadra intanto vediamo anche delle immagini di un servizio che vi hanno proprio dedicato. Sì grazie mille, no allora tanto Sampdoria Club Hong Kong ci tengo a precisare questa cosa e questa è un'opportunità che la Sampdoria mi ha offerto qualche anno fa di diventare ambasciatore in Asia per la Sampdoria e da questo progetto poi abbiamo avuto la fortuna con altri ragazzi italiani di fare una squadra 90% composta da soggetti italiani ci siamo iscritti l'anno scorso a un campionato di terza divisione che abbiamo vinto ed è stato bello perché poi alla fine il fatto di essere una squadra composta solamente da italiani con questi colori fantastici che ha la Sampdoria ci ha fatto da un lato avere la possibilità di attrarre tutta una serie di sponsor italiani tra cui quello che vedete nelle immagini che è un supermercato italiano presente a Hong Kong e dall'altra parte di farci conoscere a livello nazionale a Hong Kong per diciamo il fatto che siamo comunque una squadra di italiani simpatici portiamo un po' il nostro brand in giro e poi sono anche abbastanza bravi me ragazzi perché abbiamo vinto il campionato alla prima occasione ora l'anno prossimo parteciperemo a un campionato di seconda divisione e questo ci tengo a dirlo la squadra ha dato un grosso aiuto a tutti noi perché l'unione che abbiamo avuto nei momenti difficili grazie a questa squadra ci ha fatto sentire meno soli e meno distanti dalle nostre famiglie ecco vi stiamo vedendo proprio le immagini ecco anche la sua intervista insomma siete diventati famosi ma io non sapevo che a Hong Kong si amasse così tanto il calcio no allora il calcio ovviamente non è lo sport principale ma come non lo è quasi nessuno a Hong Kong perché a Hong Kong ci sono tanti essendo un web, un hub internazionale poi ci sono persone che vengono un po' da tutto il mondo e portano le loro passioni quindi siamo al rugby, siamo al cricket, siamo al calcio però ovviamente essendo poi 7 milioni e mezzo di persone poi ci sono moltissime persone che sono amanti di diversi sport e il calcio è molto seguito soprattutto perché poi aggrega persone di diverse nazionalità quindi inglesi, cinesi, italiani, spagnoli quindi no no il calcio è molto amato e loro hanno solo un campionato professionista che è la Premier League e che è comunque un campionato di tutto rispetto dove giocano anche ex calciatori, professionisti forti qualche anno fa giocava anche Diego Forlan qui in Asia allora Vitali senta in conclusione velocissimo perché sono in ritardo la cosa che le manca di più di casa di quando insomma è a Hong Kong e poi se ci saluta diciamo con il saluto che si fa ad Hong Kong so che si usa l'inglese però ci sarà qualcosa che si dice di diverso allora sì dunque allora ovviamente quello che mi manca di più di casa è la famiglia e in questi anni l'ho sentita ancora di più mi manca tutta la città i colori fantastici che ha questa città soprattutto al tramonto e al mattino e mi manca in generale la quotidianità che avevo in Italia il saluto loro in realtà parlano inglese anche per salutarsi però loro non dicono bye bye dicono bye bye così e quindi questo è il modo per salutarci bye 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 allora Francesco Vitali, genovese ad Hong Kong grazie mille, a presto